Una soleggiata giornata di ottobre, il tragitto in battello, la visita all'orrido e alla rinnovata Cade il Diavolo. Non poteva cominciare meglio la settimana di attività previste fra Bellano, Varenna, Menaggio e Tremezzina per le delegazioni provenienti da Grecia e Portogallo che prendono parte al progetto Open Air Green Sport. Nato nel 2019 grazie alla partecipazione del Comune di Bellano ad un corso indetto da Anci Lombardia sull'europrogettazione e quindi al bando Erasmus Plus Sport, il progetto è rivolto ai ragazzi fra i 14 e i 16 anni dei tre paesi coinvolti. Il progetto consiste in vari incontri internazionali, abbiamo tre partner, un partner è quello greco, una scuola dell'isola di Lemnos, un altro partner è una municipalità, quindi un comune del sud del Portogallo e il terzo partner è Aurelia, si tratta di un'associazione tedesca che si occupa di educare i giovani alla sostenibilità ambientale soprattutto attraverso lo sport. Quindi con questi tre partner faremo questi tre barra quattro incontri internazionali in cui coinvolgeremo dei giovani ragazzi in attività sportive ma anche in attività educative volte a sensibilizzarli alla conservazione del paesaggio e alla sensibilità ambientale. Abbiamo voluto partire da Lordo proprio per partire dal nostro punto di forza. Uno degli elementi di questo progetto è proprio la conoscenza del territorio e nei prossimi giorni ci saranno altre opportunità di scoprire tesori magari che non conoscono o che non si aspettano di trovare come non si aspettavano di trovare Lordo in un ambiente così particolare. La cosa bella è vedere dei giovani protagonisti di qualcosa che comunque unisce i paesi e quindi siamo tutti molto orgogliosi di avere questa opportunità e noi andremo curiosi a visitare i loro paesi e anche loro ci hanno fatto vedere già oggi, metteranno molto in mostra tutto quello che di bello hanno da offrire nei loro paesi. È la prima volta all'estero per me e i miei compagni, siamo davvero entusiasti, questa visita ci sta piacendo tanto. Conoscere ragazzi di altre nazioni è stata una bella esperienza anche perché penso che sia una bella parte del lago di Como e andrebbe valorizzato.